Siamo nella sede di Alzano Viva con Simonetta Fiaccadori, ripercorriamo un po' il 2022, per voi è stato un fondamentale aiuto verso i profughi della guerra in Ucraina, un bello progetto che avete poi presentato e reso conto nelle serate precedenti. Va bene, questo progetto nasce da Alzano Viva, cittadinanza attiva, ma in collaborazione con altri soggetti importanti che sono Insieme per Mano e Cooperativa San Martino. Abbiamo costituito un coordinamento per l'accoglienza e intorno a questi soggetti si sono poi raccolti cittadini italiani che nel momento dell'emergenza hanno voluto dare il loro aiuto e la loro ospitalità e quindi il nostro coordinamento ha praticamente fornito supporto e servizio ai cittadini che davano ospitalità nelle abitazioni. Abbiamo ospitato nel corso di questo anno 24 persone, attualmente abbiamo una parte dei nuclei che sono rientrati in Ucraina e noi stiamo ancora seguendoli e abbiamo ancora qualche nucleo a Gazaniga, a Alzano e a Redona e a Bergamo. Quindi stiamo ancora lavorando anche se in modalità differenti perché una parte del progetto di supporto più immediato, per esempio il Banco Alimentare, in questo momento ha chiuso e stiamo invece seguendo gli inserimenti lavorativi e appunto i rientri. I rientri in particolare avete ancora contatti con chi è rientrato? Cosa vi dicono di questa guerra? Allora, chi è rientrato è rientrato in periodi diversi, qualcuno a partire da aprile a secondo del momento in cui si creava una situazione di tranquillità nelle zone di provenienza. Ci sono state delle situazioni di rientro che hanno oggi una situazione purtroppo drammatica perché ad esempio uno dei nostri nuclei familiari è rientrato a Dnipro e sono arrivati là proprio il giorno in cui bombardavano la stazione. E se posso leggo, mi sono portata alcuni messaggi delle chat che noi intratteniamo. Ci sono i momenti belli in cui ci facciamo anche gli auguri per il compleanno ma ci sono momenti in cui il racconto è di questo tipo. Questo è del primo dicembre, buon pomeriggio, resistiamo, come sapete, l'elettricità è spenta nel nostro appartamento, fa freddo nell'appartamento, abbiamo appena il tempo di cucinare dato che lo accendono per un paio d'ore. Poi si mangia, freddo, non abbiamo gas, è tutto elettrico. L'importante è non essere bombardati, sopravviveremo a tutto. E questo ci fa sentire un contatto costante e ha fatto sì che noi in qualche modo cercassimo di inviare un piccolo contributo per alcune emergenze. Abbiamo dato un contributo di viaggio per i nostri ospiti che rientravano e dei piccoli contributi, anche se non è semplice far arrivare il contributo economico. E da parte nostra non è neanche una politica sostenibile il mantenere un sostegno economico a distanza, però nell'emergenza chi ha avuto rapporti diretti, gli italiani che hanno aspettato, magari ci tengono. A far avere un piccolo sostegno, quindi noi ci occupiamo anche di questa parte.